Ad alcune persone io dico non provare neanche perché sicuramente non riuscirai. Perché lo dico? Perché semplicemente partono con una frase. La frase è, ma sì, tutto quello che hai detto è bello, magari provo, vediamo come va. La mia risposta è non provare e non vedere neanche come va, perché stai soltanto perdendo del tempo. La persona che ti dice provo, vediamo come va, è una persona che non vuole fare assolutamente nulla, ma non ha una forte motivazione che la porta a scegliere un'attività come questa. Qui occorre la motivazione. La motivazione del perché tu inizi a fare un'attività come questa sarà quella bussola che ti darà la direzione. Perché nei momenti difficili di questa attività, è fatta così questa attività, di alti e di bassi e di alti e di bassi, ma anche in questi alti e bassi vanno sempre a crescere. E quindi nei momenti di bassa intensità magari molli tutto e fallisci. Anzi, quello è autosabotaggio perché tu decidi di fallire perché non avevi lavorato su te stesso. Quindi formazione personale è molto buona da fare in questa attività perché andiamo a riconoscere gli atteggiamenti sbagliati, che sono insiti purtroppo in noi stessi. Ciao!